Questa volta in manette sono finite le donne della Camorra. 12 di loro, infatti, sostituendosi ai mariti detenuti, avevano organizzato il traffico di droghe e armi sul territorio del napoletano. 48 in tutto le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Napoli nel corso di un blitz notturno. Si tratta di affiliati alle cosche Falanga, Di Gioia e di una frangia scissionista, dei Di Gioia, attivi a Torre del Greco, nonché del clan Amato Pagano, attivo a Secondigliano, tra i protagonisti della FAIDA nell'area a nord di Napoli. Tutti fermati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio volontario e associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e a distorsioni. Nel corso delle indagini, condotte anche grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché alle informazioni fornite da alcuni collaboratori di giustizia, i militari hanno individuato i responsabili dell'omicidio del bosca Etano di Gioia, avvenuto nel 2009. Scoperto inoltre un vero e proprio cartello del narcotraffico con collegamenti tra i clan di Torre del Greco e quello degli Amato Pagano di Secondigliano, mediato dal gruppo Bastone di Scampia. La droga veniva importata dalla Spagna con l'intermediazione dei marsigliesi, alcuni dei quali, già detenuti, due anni fa furono arrestati mentre trasportavano oltre 300 chili di droga.